Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Convalidato l'arresto per tentato omicidio di una donna 54enne residente nel Parmenze dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo dopo la cattura del compagno, l'aggressore 61enne all'altezza dell'area di servizio Badialpino al termine di un inseguimento di quasi 300 chilometri da parte dei carabinieri. Chiara Sadotti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto del 61enne Ed Gastolano in semilibertà che lo scorso lunedì sera Sorbolo nel Parmese aveva prima svuotato una bottiglia di acido sulla testa della compagna, poi l'aveva accoltellata ed infine aveva tentato la fuga. Era stato bloccato ad Arezzo da carabinieri e polizia stradale dopo un inseguimento di 300 chilometri nell'area di servizio di Badialpino vicino al casello. L'uomo è accusato di tentato omicidio ed evasione. Il GIP, recependo integralmente l'attività investigativa operata dai carabinieri, ha emesso nei confronti dell'arrestato un provvedimento cautelare e resistivo in carcere. L'attività investigativa svolta dai carabinieri di Parma ha permesso di individuare e porre sotto sequestro l'arma ritenuta usata dall'arrestato per colpire la donna a un coltello da cucina con lama da 2 centimetri, mentre la perquisizione personale dell'arrestato da parte dei carabinieri figli di Valdarno ha consentito di rinvenire un manoscritto dall'apparente valenza confessoria. La donna di 54 anni, vittima della brutale aggressione, era finita in ospedale a Parma. A una prognosi di 15 giorni avrebbe riportato stioni principalmente al volto ed è rimasta anche ferita ad un fianco per una coltellata inferta dal compagno. Una banda di truffatori è stata sgominata a conclusione di una lunga indagine da parte dei carabinieri di Vimercate nella provincia di Monza, Brianza. Era stato da loro organizzato un mercato online di automobili fittizio con l'obiettivo di mettere le mani sulla caparra della vendita. Una volta ottenuto il denaro dai potenziali acquirenti, i fin di venditori sparivano. Gli arrestati sono quattro persone, tutte di nazionalità italiana, già note alle forze dell'ordine. Il luogo di incontro dei criminali dove venivano concordate le fasi, le modalità di ciascuna truffa, nonché la spartizione dei proventi, era un noto ristorante della Brianza. Al momento le truffe effettuate risultano essere in tutto 25 ai danni di vittime residenti da nord a sud, comprese la nostra città di Arezzo, Siena e Prato. Truffe che tra agosto 2022 e giugno 2023 avrebbero fruttato oltre 50.000 euro. Nel corso dell'esecuzione del provvedimento cautelare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro beni e documenti di varia natura ritenuti pertinenti ai reati commessi. Le indagini proseguiranno al fine di individuare altre possibili truffe. E si va verso la strada giusta per la sicurezza e la riqualificazione dei giardini della stazione di Arezzo Porcinai. Questo è ciò che è emerso l'ultimo incontro di Confe Commercio e Confe Esercenti in Prefettura. Abbiamo apprezzato l'attenzione che la Prefettura e il Comune, assieme alle forze dell'ordine, hanno riservato ai giardini del Porcinai. È stata l'occasione per aggiornarsi attorno al tema della sicurezza e per ribadire la necessità di continuare sul percorso avviato per riqualificare e valorizzare l'area. Le associazioni di categoria Confe Commercio e Confe Esercenti escono così soddisfatte dall'incontro in Prefettura sul tema della sicurezza cittadina e sul decoro. Un incontro richiesto dalle stesse associazioni dopo le azioni messe in campo nelle scorse settimane per arginare il problema sicurezza nella zona dei giardini Porcinai, dove ultimamente è arrivata anche la vigilanza privata. C'è la volontà da parte di tutti di alzare la percezione di sicurezza e decoro, proseguono Valeria Alvisi e Catiuscia Fei, rispettivamente direttrice di Confe Esercenti Arezzo e direttrice aggiunta di Confe Commercio Firenze Arezzo. Le azioni messe in campo sino ad oggi, seppur non risolutive, sono comunque importanti e significative ed hanno riscontrato i primi apparezzamenti tra i commercianti. L'incontro poi è servito anche ad affrontare il tema della sicurezza legato alla movida che riguarda altre piazze cittadine e che richiede un impegno in termini di controllo e prevenzione. Siamo disponibili come associazioni, concludono Confe Esercenti e Confe Commercio, a fare la nostra parte e abbiamo dato la nostra disponibilità a siglare un protocollo per sensibilizzare gli associati a collaborare per evitare che durante il periodo estivo, ma non solo, possano ripetersi episodi come quello accaduto lo scorso weekend in piazza della Badia. Un vero laghetto acquitrinoso si è creato nel cantiere della nuova caserma della Polizia Municipale di via Fabio Filzi ad Arezzo, fermo ormai da mesi. L'assessore Sacchetti annuncia provvedimenti nei confronti della proprietà se non si provvederà allo svuotamento in tempi brevi. Infatti è scaduta oggi la proroga dell'ordinanza del Sindaco per il prestimo delle condizioni di sicurezza del cantiere da parte della proprietà, ma oggi i lavori non sono ancora stati avviati. Sentiamo. Se tra oggi e domani non vedremo svuotate queste vasche che si sono formate, è già stata allertata la struttura della manutenzione del comune, quindi interverrà il comune stesso e poi farà rivalza nei confronti della proprietà per i costi subiti. Qualcosa potrebbe finalmente muoversi in via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. È infatti scaduta oggi la proroga all'ordinanza del Sindaco per il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere da parte della società. Una proroga concessa per consentire specifiche analisi prima di poter scaricare liquidi nella fognatura pubblica, ma ad oggi il raccruppamento di imprese, tra cui una banca che ha la proprietà dell'immobile, non ha iniziato i lavori. Ci penserà così adesso l'amministrazione comunale. Poi dopo ovviamente bisognerà intervenire per mettere in sicurezza il cantiere, cioè per impedire che venga utilizzato in maniera impropria per liberare questi posti auto. Quindi nulla, è questa la situazione. Purtroppo ci siamo trovati, malgrado in questa situazione, l'immobile di proprietà private non è del comune, quindi non è un appalto standard per cui viene operato su proprietà comunali, questo è di privati, e noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, a quel punto agiremo in forza. Il comune aveva già proceduto alla risoluzione del contratto di esecuzione per inadempienza, aveva cercato anche un nuovo esecutore, ma ancora ad oggi sul destino della struttura aleggia un grande punto interrogativo. Abbiamo lavorato con la proprietà, che è l'istituto bancario, per cercare di riprendere i lavori con un nuovo soggetto esecutore. Ci sono delle difficoltà su questo, quindi sono scaduti i tempi, e quindi la prima operazione è mettere in sicurezza, poi la successiva vedremo come comportarsi nei confronti della proprietà per capire che fine può fare questo immobile. Le strade percorribili sono tre, un contenzioso, molto probabile ci si vada, l'acquisizione dell'immobile, e in ultima che era la strada che in qualche modo si cercava di intraprendere, ma ci sono delle problematiche, ovviamente bisogna procedere nel rispetto delle norme, delle leggi che sono complesse. Era quello di poter proseguire i lavori con una nuova ditta, che però non è che è una ditta che individua il comune, è tutta un'operazione che è nella liberalità del soggetto concedente, quindi è l'istituto di credito. Quindi questi sono i tre scenari, ad oggi occupiamoci di mettere in sicurezza, perché ovviamente i cittadini lamentano dei disagi, capisco, e quindi bisogna operare. E la segretaria nazionale del PD, Ellie Schlein, è stata a Cittadella della Pace, quindi a Rondine, e ha incontrato gli studenti in arrivo dai paesi in guerra, insieme ai responsabili dell'associazione. 30 settimenti. No, guardi il luogo dove siamo. A Firenze vi rispondo a Firenze, diciamo. Ellie Schlein oggi nel borgo di Rondine si rifiuta di rispondere alle domande in natura politica sulle alleanze rispetto alle amministrative, ma appunto rilascia una sua dichiarazione su questa visita e soprattutto sul fatto di aver accolto l'appello proprio di Rondine, Cittadella della Pace, per quello che riguarda proprio anche il confronto politico. Oggi più che mai, nel giorno della Festa dell'Europa, fosse per noi importante cogliere l'appello che Rondine ha inviato alle forze politiche tutte a fare una riflessione su questo, in questi tempi di guerra che preoccupano l'Europa e preoccupano il mondo e preoccupano le nuove generazioni, soprattutto anche in politica, e io da segretaria del PD lo accolgo in pieno questo appello, imparare anche nella dialettica quotidiana ad avere di fronte avversari e non nemici. Quindi, Franco, io la mia disponibilità per quello che il PD potrà fare in questa direzione ve la do e sono venuta volentieri a darvela di persona. Un appello a cui hanno aderito anche il ministro Valditara, il ministro Salvini, che probabilmente visiterà Rondine dopo le elezioni, e altri segretari di partito. Tanto abbiamo già l'annunciata visita di Matteo Salvini, che forse non viene prima delle elezioni, verrà subito dopo, però ha già scritto di grande interesse e di iniziare anche una relazione, se nascerà questa stima più ravvicinata. Abbiamo anche già apprezzamenti molti con il ministro Valditara, che arriverà a un messaggio, altri leader dei vari schieramenti, dei vari partiti. Quindi abbiamo anche dalla segreteria di Frato Ianni, abbiamo avuto un apprezzamento molto forte, da Ferdinando Casini, insomma so che arriverà da Maurizio Lupi una bellissima risposta molto pensata e molto ragionata. Non so se oltre alla lettera vorranno fare i postini, vorranno venire anche a portarcela. Noi siamo aperti, un caffè non si nega mai a nessuno, Rondine è la casa di tutti, e oggi siamo molto felici che stanno arrivando a delle disponibilità concrete a fare il nostro progetto, cioè avversari sì, nemici mai. La Schlein, lasciando il borgo di Rondine, però rimarca la sua idea di Europa. Le più grandi sfide del futuro, sia l'emergenza climatica, l'elusione fiscale delle grandi multinazionali mentre i lavoratori e imprese sono tassati più del 30%, sia le guerre, quindi la costruzione di pace, sia il contrasto alle diseguaglianze, sono tutte sfide che non si possono più risolvere entro i ristretti confini nazionali. Chi racconta il contrario mente e invece noi siamo per più integrazione, ma anche un'Europa più sociale, quindi più vicina ai bisogni delle persone. Più integrazione in Europa e in Italia, no alla disintegrazione dell'Europa e ahimè dell'Italia con l'autonomia differenziata su cui sta spingendo questa destra. Una medaglia per il Calcit grazie agli studenti dell'Istituto Professionale Orafi Margaritone che l'hanno realizzata. Mille gli esemplari stampati da una ditta retina. Il premio sarà distribuito ai bambini che svolgeranno il loro servizio al prossimo mercatino dei ragazzi. Chiara Sadotti. Questa medaglia è quando l'uomo si ricorda che è figlio della terra e quindi ama il prossimo. È una mano che regge un cuore con i battiti cardiaci che aiutano la situazione. Io ho fatto la faccia nella quale si viene rappresentata l'uomo che ha le radici appunto di un albero quindi appunto il significato è lo stesso disegno. Noi abbiamo le nostre radici nel pianeta quindi nell'ecosistema stesso perciò è importante prendercene cura. Sono stati ancora una volta agli studenti dell'indirizzo Aurafi dell'Istituto Professionale Margheritone ad ideare e realizzare la medaglia che sarà regalata a tutti i bambini che parteciperanno al mercatino dei ragazzi del Calcit. È sempre un momento diciamo molto importante per la loro crescita sia da un punto di vista scolastico ma anche di esperienza poi lavorativa. Comunque il Calcit rappresenta diciamo la città di Arezza quindi sono molto soddisfatta di quello che abbiamo realizzato grazie anche comunque all'aiuto degli altri miei compagni di classe. La settantesima edizione della manifestazione è in programma per domenica 12 maggio. Nella zona Eden oltre 250 banchi e circa 400 ragazzi accompagnati da altrettanti genitori per raccogliere fondi da destinare al servizio escudo cura domiciliari oncologiche. Visto anche la buona giornata che si preannuncia penso anche con tanti visitatori perciò confidiamo in un buon incasso. Naturalmente ringrazio il Calcit come al solito per questa iniziativa e soprattutto anche per lo scopo dell'iniziativa che è quello di finanziare la ricerca e la cura dei malati oncologici. A produrre mille esemplari della medaglia come ogni anno un'azienda retina del territorio. È sempre bello essere vicino alla città essere vicino al Calcit e soprattutto come ex studente di questa scuola sono particolarmente affezionato a quello che fanno e a tutte le iniziative per valorizzare il loro lavoro. Questa è un'eccellenza retina che va mantenuta e valorizzata. Giù le mani il diritto di contare è il titolo dell'edizione 2024 del concorso di Borsa di Studi organizzato dal premio internazionale Semplicemente Donna in Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia la cerimonia di premiazione. Sentiamo. Educare le giovani generazioni ad una cultura del rispetto della parità di genere e della non violenza. Questo l'obiettivo di Giulemani il diritto di contare. Il concorso di Borsa di Studi organizzato dal premio internazionale Semplicemente Donna è giunto alla sua terza edizione. Ed è molto importante perché affronta delle tematiche che sono di assoluta importanza temi anche molto forti quali appunto la violenza contro le donne che vissuti dai ragazzi in prima persona elaborati dai ragazzi attraverso il loro lavoro il loro lavoro danno il polso della situazione cioè del loro coinvolgimento su temi anche diciamo che sono temi non sempre semplicissimi da affrontare. Nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse di ben 15 istituti superiori della provincia aretina quasi 40 i lavori valutati 10 le borse di studio consegnate. Quello che abbiamo notato è che i ragazzi, gli studenti hanno veramente la necessità di portare nelle loro aule argomenti di storia quotidiana e in questo caso stiamo parlando di lotta alla violenza di ogni genere alle donne però quello che ci fa riflettere in questo momento è questa escalation di violenza giovanile e questo vuol dire che probabilmente ci dovrà essere una triangolazione famiglia, scuola e istituzioni. Si avvicina così l'appuntamento con la dodicesima edizione del premio internazionale Semplicemente Donna. la cerimonia di premiazione è in programma per venerdì 22 novembre al teatro Mario Spina. Con il solito programma nutrito di eventi collaterali ma soprattutto concentrato con gli incontri con le scuole e quest'anno se ci riusciamo vorremmo coprire anche San Giovanni Valdarno che è l'unica città della provincia che al momento è rimasta fuori quindi vediamo se l'organizzazione la logistica ce lo consentirà però l'obiettivo da raggiungere è questo. E concludiamo con lo sport l'Arezzo non tanto per il gioco visto che si è conclusa la fase agonistica della stagione degli Amaranto quanto per ciò che è avvenuto ieri con la rescissione del contratto consensuale da parte del direttore generale Giovannini e la società Amaranto quindi perplessità e sconcerto sui social per questo addio adesso imbilico anche la guida tecnica di indiani dopo due stagioni strepitose condotte magistralmente dai sempre inseparabili direttore e tecnico andiamo a leggere che cosa hanno scritto anche sui social gli aretini ad esempio siamo arrivati dove il pansecoce scrive su facebook pianeta Amaranto le orecchie fischiavano ormai da diversi giorni e si facevano sempre più insistenti e fastidiose speravamo che fossero passeggeri ma difficilmente voci su voci siano stato solo chiacchiere ed è stato tempestivo a bocce definitivamente ferme il comunicato ufficiale che decreta la fine del rapporto con l'Arezzo del direttore Paolo Giovannini ma il comunicato è di una sdolcinatezza disarmante baci abbracci tarallucci e vinsanti allora fuori la verità su una vicenda assurda assurda perché Manzo aveva fatto un contratto a Giovannini per dieci anni si erano giurati in questo modo amore eterno e questo non è successo qualche anno fa ma solo qualche mese fa e no cari signori non potete farci passare da vabbè vogliamo la verità su questa vicenda assurda con molti moltissimi lati oscuri avvolgendo nel mistero un fatto talmente assurdo che difficilmente potranno essere mascherati i veri motivi questo pianeta Amaranto ma i commenti sui social sono stati veramente tanti una tra le tante voci quella del collega Giorgio Ciofini che è già commentatore per Sport a chilometri e zero commentando un post di Amaranto Magazine non capisco e non mi adevo scrive Ciofini ci devono essere motivi molto validi per non dire eccezionali per rompere il rapporto con Paolo Giovagnini che circa un anno fa il presidente vincolava all'Arezzo con un contratto praticamente a vita in omaggio all'uomo che aveva ribaltato i primi due anni da dilettanti allo sbaraglio restituendo credibilità e risultati alla società sportiva non capisco e non mi adevo senza spiegazioni e operazioni convincenti a cominciare dalla scelta del sostituto da parte della società aspettando chiarimenti al di là delle veline ribadisco non capisco e non mi adevo la plebiscità anche da parte nostra dato che il direttore generale dell'Arezzo ha conseguito degli splendidi risultati una promozione avvincente del campionato di Serie D con la promozione in Serie C e questa prima stagione in Lega Pro con la conquista dei play-off è terminata al primo turno però grazie alla sconfitta contro la recente partita ad Alessandria contro la Juventus Next Genie staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di questa vicenda intanto il sottoscritto vi saluta e vi augura buona serata con i programmi di Arezzo TV